Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Sciacca sono riusciti a risalire ai quattro responsabili dell'aggressione avvenuta qualche giorno fa in località Sovareto ai danni di un giovane che si trovava sulla spiaggia. Si tratta di quattro maggiorenni, tutti di Sciacca, che sono stati denunciati per lesioni in concorso. L'episodio si è verificato venerdì sera intorno alle 22.30. Le indagini della Polizia di Stato proseguono nel più stretto riservo. Ci sono ancora molti aspetti della vicenda da chiarire, a cominciare dalle motivazioni della brutale aggressione, ma sulla base degli elementi fin qui raccolti il commissariato di pubblica sicurezza ha ricostruito la vicenda e denunciato i quattro presunti aggressori. Una vera e propria spedizione punitiva, quella messa in atto dai quattro, con tanto di volto coperto, uno dei quali avrebbe iniziato a colpire la vittima, anche lui maggiorenne, che per le contusioni riportate, per fortuna non gravi, ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II. Convocato presso gli uffici del commissariato, è stato lui a riferire ai poliziotti che, mentre si trovava sulla spiaggia di località Sovareto, è stato avvicinato da quattro giovani con il volto coperto ed uno di loro ha iniziato a colpirlo a calci e pugni, facendolo stramazzare per terra, mentre gli altri tre rimanevano immobili ad osservare che non giungesse qualcuno. Durante il pestaggio, il giovane che ha subito l'aggressione avrebbe riconosciuto il suo aggressore, chiamandolo per nome. A quel punto, sempre secondo la ricostruzione della polizia, i quattro si sono scoperti il viso e si sono dati alla fuga, salendo a bordo di un'autovettura, ferma nel piazzale poco distante. Pare che qualche tempo fa la vittima abbia avuto un contrasto con il suo aggressore, il quale adesso avrebbe deciso di vendicarsi. Sono in corso ulteriori accertamenti. Nel frattempo, i quattro sono stati denunciati presso la Procura della Repubblica di Sciacca per lesioni in concorso.